Nell'ultima udienza generale prima della Pasqua, Papa Francesco in aula Paolo VI è tornato nuovamente a condannare la guerra. Durante la catechesi Francesco ha riflettuto sul modo di Dio di pensare la pace, un modo radicalmente diverso dalla visione del mondo che cerca di costruirla con la forza. La pace del Signore, ha spiegato, segue la via dell'amitezza e del farsi carico degli altri. La pace che Gesù ci dà a Pasqua non è la pace che segue le strategie del mondo, il quale crede di ottenerla attraverso la forza, con le conquiste e con varie forme di imposizione. Questa pace in realtà è solo un intervallo tra le guerre. Quella pace è solo un intervallo tra le guerre, lo sappiamo bene. La pace mite e coraggiosa è tuttavia difficile da accogliere a riconosciuto il Papa che ha auspicato di vivere la Pasqua sperimentando il passaggio dall'avidità alla carità e dunque dal Dio mondano al Dio cristiano. Fratelli e sorelle, mettiamoci davanti al Gocefisos, sorgente della nostra pace e chiediamogli la pace del cuore e la pace del mondo. Anche al termine dell'udienza generale in Aula Polo VI, durante i saluti nelle varie lingue, il Papa ha chiesto di pregare per le persone che stanno vivendo la terribile esperienza della guerra. La nostra preghiera accompagna in particolare tutti coloro che stanno attraversando questi giorni santo nell'abbandono, nella guerra e nella difficoltà. La pace, ha precisato, è un dono di cui tutto il mondo ha tanto bisogno e poi, rivolgendosi ai fedeli polacchi, il Papa ha allodato ancora una volta l'accoglienza che il Paese sta assicurando ai profughi in arrivo dall'Ucraina. Quest'anno celebrarete in modo speciale la Settimana Santa e la Pasqua, insieme a molti ospiti ucraini. La Pasqua è una festa di famiglia e voi, aprendo a loro le vostre casse, siete diventati i loro familiari. Anche se la maggior parte di essi celebrerà queste feste una semana più tardi, secondo la tradizione orientale, già ora tutti voi insieme contemplate il crocefisso e aspettate la risurrezione di Cristo e la pace in Ucraina. Nel corso dell'udienza con i soci del reale circolo canottieri Tevere e Remo, in occasione del 150esimo anniversario della Fondazione, Papa Francesco ha fatto riferimento al dramma che l'Ucraina sta vivendo a causa della guerra. Noi non possiamo in questi giorni parlare di altre cose senza almeno ricordare, ricordare la crudeltà alla quale si può arrivare. Lo spirito sportivo, questo di amatorialità posta, è una preparazione per non cadere in queste cose, coltivare l'amicizia umana e si prepara a non cadere in questa tragedia e pensare a quella gente che è vittima di questa tragedia. Proseguendo nella sua riflessione, il Santo Padre ha ricordato come nel corso degli anni il circolo si sia sforzato di proporsi come palestra di formazione umana ed ha incoraggiato la Fondazione a perseverare perché bambini, giovani e adulti possano coltivare i valori essenziali attraverso lo sport. A volte il mondo dello sport sembra subire i condizionamenti delle logiche del profitto e dell'agonismo sasperato che può degenerare anche in episodi di violenza. È il compito anche delle realtà come la vostra testimoniare la forza morale dell'attività sportiva. Se vissuta rettamente aiuta a stabilire buone amicizie, a favorire la costruzione di un mondo più sereno, fraterno, nel quale ci si sostiene e ci si aiuta a vicenda. Una missione nobile e delicata è quella a cui sono chiamati i membri del Consiglio Superiore della Magistratura Italiana che il Papa ha ricevuto in udienza in Aula Paolo VI venerdì scorso. All'inizio del suo discorso Francesco ha ricordato la rappresentazione della giustizia fornita dall'arte classica, una donna bendata che regge una bilancia con i piatti in equilibrio, ad esprimere allegoricamente l'uguaglianza e l'imparzialità richieste nel suo esercizio. Secondo la Bibbia, ha aggiunto, occorre anche amministrare con misericordia. Ma nessuna riforma della giustizia può cambiare la vita di chi la amministra se prima non si sceglie davanti alla propria coscienza per chi, come e perché fare giustizia. E la domanda sul per chi illumina sempre una relazione con quel volto a cui si deve una risposta. La cultura della giustizia riparativa è l'unico vero antidoto alla vendetta e all'oblio, perché guarda alla ricomposizione dei legami spezzati e permette la bonifica della terra sporcata dal sangue del fratello. Il Papa ha poi affermato che la domanda storica sul come si amministra la giustizia passa sempre dalle riforme. Il Vangelo di Giovanni al capitolo 15 ci insegna a potare i rami secchi senza però amputare l'albero dalla giustizia, per contrastare così le lotte di potere, i clientelismi, le varie forme di corruzione, la negligenza e le ingiusti posizioni di rendita. Questa problematica, queste situazioni brutte, voi le conoscete bene e tante volte dovete lottare fortemente perché non crescano. Il perché amministrare ci rimanda invece al significato della virtù della giustizia, che per voi diventa un abito interiore, non un vestito da cambiare o un ruolo da conquistare, ma il senso stesso della vostra identità personale e sociale. Concludendo la sua riflessione, Francesco ha evidenziato come la credibilità della testimonianza, l'amore per la giustizia, l'autorevolezza, l'indipendenza dei poteri costituiti e un leale pluralismo di posizioni, siano gli antidoti per non far prevalere le influenze politiche, le inefficienze e le disonestà. La Fondazione Marcello Candia ha festeggiato i 40 anni di attività nella cura dei malati e nel sostentamento dei più poveri e demarginati nel nord-est del Brasile. A farla nascere, nel 1982, fu lo slancio missionario di Candia, un industriale lombardo che negli anni 60 decise di trasferirsi in Sud America per assistere i più bisognosi. Incontrando i membri della Fondazione, venerdì scorso nel Palazzo Apostolico Vaticano, Papa Francesco ha sottolineato il metodo e lo stile con cui essa porta avanti le sue iniziative, mantenendosi fedele al mandato che Marcello Candia ricevette direttamente da San Paolo VI nel corso di un'udienza privata. Faccia l'ospedale non solo per i brasiliani, ma con i brasiliani, ha detto il Santo Padre citando il suo predecessore. Non solo per, ma con. Questo è importante. È una regola generale della carità, lavorare con le persone destinatarie del servizio. E aggiungeva, si proponga come obiettivo finale di non essere più necessario. Questo è saccio, eh? Ma tante volte qui, anche noi in Chiesa, troviamo gente di valore, preti, vescovi, ma credono che la storia della salvezza passa per loro, che sono necessarie. Nessuno, nessuno è necessario assolutamente. È necessario per fare quello che deve fare. E poi che la storia, Dio, dirà, se continuo io ci viene un altro, no? Francesco ha poi richiamato un'altra indicazione, lasciata in eredità da Papa Paolo VI alla Fondazione. L'obiettivo finale deve essere quello di non essere necessari. Quando lei si accorgerà che l'ospedale cammina da solo, allora lei avrà realizzato una vera opera di solidarietà umana. Anche questa è una regola molto saggia. Non legare a sé le persone le opere. non rendersi indispensabili, ma al contrario, formare i collaboratori e assicurare stabilità e continuità. Ma con i collaboratori, no? Niente paternalismo, no? Per crescere. Pag мои. Pagmine da solo. Pagmine male. Pagmine da solo. Pagmine da solo. Grazie a tutti.